Oh e iniziamo con un nuovo video, al lago a Levico stavolta, beh insomma adesso vediamo di fare il primo tiro che è sempre quello che ci mette ore a farlo Stiamo andando al lago, c'è una giornata bellissima, sono le 8 e mezzo di mattina, sono le 11 gradi Siamo appena arrivati, già cominciamo a vedere, già il pallone è finito in acqua, il mio giro è giusto Oh, è superato il bravo E due Alla fine Alla fine Non è preso Alla fine Alla fine Ahia! no si 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 si